siete disposti seguendo la via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita siete disposti ad accogliere con amore i figli che dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di cristo e della sua chiesa se è vostra intenzione di unirvi in matrimonio datevi la mano destra ed esprimete davanti a dio e alla sua chiesa il vostro consenso grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dio non è provvisore, così un po' non ho fungiatura, Dio è eterno e nel suo amore è fedele per sempre. Quando si entra in quella dimensione, si entra nel sempre, definitivo, avanti, per sempre. Io, Luigi, accolgo te e Milena come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Milena, accolgo te e Luigi come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.